www.marizopoli.it Oggi parliamo dei finanziamenti attraverso il microcredito, che è uno strumento finanziario nato con lo scopo di rispondere alle esigenze di inclusione finanziaria e sociale per le imprese che hanno difficoltà con l'accesso al credito tradizionale. Quali sono le attività finanziabili? Acquisto di beni, anche inclusi nelle materie prime, pagamento di distribuzione di nuovi dipendenti o dei soci lavoratori, sostenimento di costi per la formazione aziendale, ripristino capitale circolante, operazioni di liquidità. Durata massima 120 mesi, compreso il primo ammortamento. Importo massimo concedibile 75.000, 100.000 euro per le SRL. È prevista la garanzia pubblica, fino all'80% per operazioni fino a 50.000 euro. Oltre scende al 60% per le operazioni di finanziamento concesso. Interessante opportunità per riflessione per finanziare le imprese. Alla prossima!